Cristina del Corso, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta davvero qui nel podcast Il Posto delle Parole con un impegno da parte sua importante. Anzitutto quello di portarci il fresco del Gran Paradiso, che credo che sia già una cosa importante. Lei ci riuscirà con le sue parole, con quello che ci racconterà, ma ovviamente a parte queste cose che ho detto sul fresco, seppur necessario, perché per arrivare al fresco, per esempio, arrivare al Parco Nazionale del Gran Paradiso, questa mi sembra una condizione importantissima. Cristina del Corso è insieme con noi per raccontarci di alcune cose che succederanno proprio al Parco del Gran Paradiso. Lei è responsabile dell'ufficio comunicazione, turismo, promozione educazione ambientale per l'appunto al parco. Quindi una bella mole di lavoro, comunicazione, turismo, promozione educazione ambientale. Rimaniamo per esempio nell'educazione ambientale. Di che cosa si è occupata ultimamente per quello che riguarda questa sua parte di lavoro, Cristina, del Corso? Allora, l'educazione ambientale in genere viene percepita con quell'accezione di programmi per le scuole. Noi facciamo anche questo, certamente sì, però per me l'educazione è un percorso vasto e ampio che si rivolge a tutti. Quindi nel momento in cui io organizzo un percorso di sensibilizzazione alla natura attraverso il teatro, per esempio, perché noi abbiamo un festival sul versante piemontese che si chiama Gran Paradiso dal vivo e che tra l'altro questo weekend terminerà con gli ultimi spettacoli. Nel momento in cui organizziamo anche un evento immersivo, quella è educazione ambientale, perché l'educazione è tutto ciò che passa attraverso le corde profonde dell'essere umano. Quindi non è didascalica, non è informativa, non è la scuola, è tutto ciò che ti coinvolge così profondamente che poi tu sei portato ad amare e a proteggere ciò che hai sentito col cuore. Ma per fare questo bisogna quantomeno allenarsi. E per allenarsi all'educazione ambientale, all'emozione del territorio, a comprenderla natura, come parte di noi stessi e così via, è chiaro che serve anche passeggiare, serve anche capire, scoprire o riscoprire una presenza importante come il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ma per chi non l'avesse mai camminato, mi conceda questa definizione, ecco, come si potrebbe cominciare a conoscere il Parco Nazionale del Gran Paradiso? Questa è una cosa bella che mi chiede, perché, vede, noi siamo un parco di montagna, da 600 metri a 4.000 metri della cima del Gran Paradiso e da sempre, anche da prima che venisse istituito il parco, eravamo tradizionalmente frequentati da alpinisti ed escursionisti, quindi un parco di montagna, con quell'immagine, per chi non frequenta la montagna, di un parco forse difficile, lontano e solo per chi è allenato. Invece non è così, perché va bene con un paio di calzature adatte, diciamo, non certo con l'infradito, ma un paio di scarpette da ginnastica, va più che bene per chi si vuole avvicinare, non su sentieri impegnativi. Ci sono tante passeggiate anche che sono, per esempio, Ceresole Reale, fa tutto il giro del lago, è una passeggiata perfettamente in pianura, sono 7 chilometri ed è molto bella per chi non è abituato. Ci sono i sentieri natura che sono dei percorsi semplici, Rem Notre-Dame e Rem Saint-Georges hanno dei bellissimi sentieri natura, così come anche Cogna, la Val Savaranchi ne ha uno dedicato al lupo, sono tutti di facili percorrenza, quindi anche se siamo in alta montagna c'è la possibilità di stare sul fondo valle e io direi forse la cosa più importante è spegnere la lingua e accendere le orecchie, quindi metterli in ascolto. Accendere le orecchie e imparare a guardare, perché è importante, e non puntare all'obiettivo, devo arrivare in quel posto sulla cima entro tre ore, due ore o che altro. Lei poco fa però mi ha fatto ricordare una persona, perché lei poco fa Cristina parlava che in montagna si deve andare giustamente con la giusta attrezzatura, no? Mi sembra una cosa giusta. Ma mi sono ricordato in un percorso verso il Gran Taparei, raggiungendo il Rifugio Benevolo, che io ho incrociato una ragazza alla quale io avrei voluto chiedere tante cose, e una delle cose che avrei voluto chiedere a questa ragazza era questa, ma perché vai in montagna scalza? Immagino che cosa sia, c'è una frangia di persone che praticano una modalità che è quella proprio del camminare scalzi per sentire tutto ciò che la terra ti comunica. A tuo rischio, perché ci sono le pietre, ci sono anche le vipere, ci sono degli insetti, ci sono le drecche, c'è tutto quello che ti può, c'è, bisogna anche andare un po' cauti su queste cose. C'è tutta la natura, c'è tutta la natura in sostanza. E la natura, a proposito della natura, c'è la rassegna natura in evoluzione, no? Che tra l'altro sta terminando, è una delle tante rassegne nei centri del parco dedicati alla ricerca, alla divulgazione scientifica, alla tutela della biodiversità. Ecco, sono tempi in cui, tra luglio e agosto, in cui, certo, tempi di vacanza, ma per molte persone che si stanno chiedendo, perché abbiamo tutti moltissime cose da fare, ma la domanda che ci facciamo spesso è dove andiamo, che cosa facciamo, partendo da un vuoto catodico, no? Non sappiamo mai che cosa fare. Allora, Cristina, a lei demandiamo proprio questa risoluzione. Dove andiamo e perché appuntamenti al Parco del Gran Paradiso? Su quale scala di tempo lo vuole sapere? Sulla scala di tempo, fine luglio, fine luglio, agosto. Lei spigoli perché poi daremo il sito in modo che andiamo a scoprire ogni appuntamento. Tutti i dettagli, assolutamente. Io farei una carrellata tematica, più che in ordine di date, perché tanto le date le trovate sul sito. Diciamo che ogni valle, se dovete scegliere in quale località recarvi, ogni valle ha una sua connotazione particolare. Gran Paradiso non è tutto uguale, quindi noi abbiamo cinque valli principali. Partiamo dalla Valle Soana, per esempio, che è una valle piemontese bellissima. È una valle molto selvaggia, tant'è che ha connotato la sua presenza nel parco col tema della biodiversità, perché tra le cinque valli del parco sembra essere quella che abbia il maggiore livello totale di biodiversità. C'è proprio una rassegna che termina questo weekend, che si chiama Una Valle Fantastica, fantastica anche nel senso che è la valle dell'immaginario. Si parla di streghe, si parla di leggende, di mistero. Quindi la Valle Soana è una valle bella da scoprire come contenuti. L'altra valle piemontese, la Valle dell'Orco, ha per esempio il comune principale che è sempre stato per tradizione. La metropoli della valle è Locana. Locana è la città del mercato, ha un bellissimo centro vecchio. Tra l'altro lì inviterei ad andare a visitare il centro dedicato agli spazzacamini, perché c'è un bellissimo teatrino che si accende per i visitatori, anche per i bambini, è molto bello e commovente, con delle marionette che si muovono e che raccontano la storia dello spazzacamino. Dura circa un quarto d'ora. In tutti i centri del parco c'è un centro visitatori che ha una mostra tematica. Ma questa di Locana io la segnalo proprio perché è molto interattiva e molto coinvolgente. E fanno la festa della montagna. Ancora in questo weekend, per esempio, ci sono delle iniziative. Poi si sale da Locana, c'è un vallone molto selvaggio per Chiama, per Sante Sud del Gran Paradiso. Si sale, vallone piantonetto, però forse è ancora la strada non percorribile per via del maltempo. Ma se si prosegue lungo la Valle Orco, si arriva poi alla famosa destinazione del Colle del Nivolè, che io raccomanderei però di non frequentare il sabato e la domenica. È già troppo frequentato, diciamocelo pure. Tanta gente che andateci di lunedì, martedì, mercoledì, ve la godete molto di più. Noasca è anche un bellissimo piccolo comune, che ha una bella comunità, come posso dire, molto accogliente, per cui nel suo piccolo ha questa bellissima cascata, un centro di educazione ambientale che si può eventualmente vedere, un centro visitatori. Se no, passando le valli valdostane, lasciando a Cogne l'augurio che quanto prima si apra la strada, ne vediamo parlare i giornali tutti i giorni, ma io sono sicura che poi questo avverrà presto e riprenderanno tutte le attività. La Valle di Cogne ha tutto, praticamente dall'artigianato, alle tradizioni, al festival che sta partendo, partirà prossimamente. Questa è un'informazione importante. Oggi come oggi si può raggiungere Cogne, perché a volte le notizie sui problemi, che ci sono stati problemi anche molto gravi, fanno sì che noi dirottiamo le nostre destinazioni altrove, mentre è importante anche capire fin dove si può raggiungere la valle. Non è ancora raggiungibile. Fino ad Aimaville si raggiunge. Tra l'altro Aimaville è un paese molto bello, molto bello, con quel castello stupendo e c'è anche un'iniziativa che è proprio storica, che riguarda il castello di Aimaville. Cogne non è ancora raggiungibile, però speriamolo sia presto. Quindi al momento teniamoci aggiornati sui giornali, appena la strada aprirà lo sapremo. Ed eravamo in una valle a cominciare a raccontare, Cristina, le valli della Val d'Aosta e abbiamo sentito quella di Aim di Cogne e poi dopo le altre valli quali sono? È dopo la valle centrale, che è proprio centrale nel senso che dalla cima del Gran Paradiso a scendere è l'unica valle tutta dentro il parco, diretta a nord-sud e tutta dentro il parco. Quindi è la valle della ricerca scientifica e la valle della biodiversità, anche lei, nel senso della wilderness. Perché tutte le valli del parco, quando uno percorre la valle con l'automobile, ha un versante compreso nel territorio protetto e il versante l'altro è fuori. L'unica tutta dentro il parco è la Val Savaranzia. In questa valle noi celebriamo, se posso usare questo termine, insieme al comune diciamo l'orgoglio della valle, è la qualità della ricerca scientifica, gli animali facilmente avvistabili, i due rifugi, Vittorio Chabot e Vittorio Emanuele II, che sono i rifugi di base, punto d'attacco della cima del Gran Paradiso, per chi è un alpinista, ed è una valle selvaggia, a dir poco. Lì veramente c'è la natura, non posso dire incontaminata, perché la presenza dell'uomo c'è, però si percepisce proprio questa forza, queste pareti ripide, è una valle più difficile delle altre, però per chi ama la vita selvaggia, forse la Val Savaranzia, è veramente spettacolare, c'è la casa di caccia di Orviei, dove andava Vittorio Emanuele II, per le sue battute di caccia, ha dei posti meravigliosi, anche raggiungibili a piedi, in un'ora, un paio d'ore, la camminata classica di un escursionista tranquillo, con la famiglia, quindi non la voglio descrivere come una valle difficile, nel senso della frequentazione, però come tipo di energia, se io la confronto con la valle di Rem, che invece è molto più ampia, un po' più svizzera, con questi pianori, questo fondo valle molto ampio, sono valli molto diverse, ma sono tutte una diversa dall'altra, e non dimenticherei le valli laterali, perché queste sono le cinque valli principali, però per esempio Ribordone, che è una valle laterale della valle Orco, più o meno all'altezza di Sparone, ha un bellissimo santuario, perché la tradizione racconta che nel 1500 ci sia stata un'apparizione della Madonna, ha un pastorello, quindi hanno costruito un santuario, quello è un luogo anche molto magico, se posso dire, per chi ama per esempio il benessere, il silenzio, è un luogo immersivo, in cui si sta bene anche lontano dal traffico, anche lì la natura è meravigliosa, siamo un po' più bassi di quota, per cui ci sono i boschi anche più fitti, i boschi di Caducivoglia, più si sale, più ci si immerge poi nei lariceti, nei boschi più tipici dell'alta montagna. Cristina del Corso, io vorrei ricordare anche i nostri ascoltatori, dal momento che sempre più gente ha al suo fianco il cane, che il cane non è permesso, se non sbaglio, nei cammini del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sì, non sbaglia, ci sono delle eccezioni, diciamo che in linea generale, si parte dal concetto che il cane, essendo un predatore per natura, perché geneticamente, alle origini, discende dal lupo, lo sappiamo, poi si sono diversificate le varie razze, dal più piccolo al più grande, dal più aggressivo al meno aggressivo, tutti conservano l'istinto innato predatorio, quindi, che io metta un Chihuahua, che io metta un Rottweiler davanti ad una marmotta che scappa, l'istinto del cane è quello di andare all'inseguimento, anche se ha appena mangiato la pappa, questa è una cosa che le persone devono capire, perché spesso dicono, ah ma il mio è bravo, ah ma il mio non insegue, no, l'istinto è l'istinto, per cui, oltre al disturbo alla fauna selvatica, che può essere portato dall'inseguimento di un cane libero, c'è il problema delle parassitosi, e quindi della possibilità che ci sia uno scambio di malattie portate da parassiti, non solo dal selvatico al cane, ma potrebbe essere anche dal cane al selvatico, quindi reciprocamente non devono entrare in contatto, allora la visione del parco sarebbe che nel territorio protetto, i cani non possano andare, se non a guinzaglio, lungo le strade asfaltate, ci mancherebbe altro, ma nei comuni, comunque anche le leggi comunali, dicono che il cane sul luogo pubblico va portato con guinzaglio e museruola, sui sentieri, sulla museruola, sulla museruola, io vorrei vedere un cane con la museruola, anche perché penso di non vederne da quando ero ragazzino, i cani con la museruola, non lo so, probabilmente nel parco nazionale, nessuno, nessuno, allora Cristina del Cusso, però volevo dire le cose che in certi sentieri invece c'è una deroga, per cui si può portare il cane anche sui sentieri di montagna, per esempio quelli che vanno ai rifugi, ma lo devi tenere rigorosamente al guinzaglio, mi sembra la cosa più scontata, e non pensare che il cane possa scorrazzare, per avere maggiori informazioni, ci racconti il punto di riferimento internetico del parco, dove ci possiamo rivolgere? www.pngp, che vuol dire parconazionalegramparadiso.it, slash eventi e iniziative, se siete focalizzati sugli eventi e gli appuntamenti nel parco, potete anche cercare nel menu a tendina, quando volete andare e in che valle volete andare, altrimenti digitate qualsiasi, e vi compaiono tutti i prossimi eventi, anche in cronologico. Lei da dove ci sta parlando Cristina del Corso? Io in questo momento vi sto parlando da casa mia, non sono sul territorio. E quando è l'ultima volta che ha fatto una passeggiata nel suo parco? Pensi, nel suo parco. E dove è stata? L'altro ieri. Ci racconti la sua camminata, da dove a dove? Sono stata in Valle Orco e sono andata verso il lago di Dress, che è un bellissimo lago che si trova sopra Ceresole Reale, si imbocca il sentiero, diciamo, dalla strada lungo lago e poi si sale. E tra l'altro è un itinerario molto bello, è anche un itinerario della ricerca scientifica, perché tutti i laghi alpini sono monitorati. Come stanno i laghi quest'anno? Stanno un po' meglio, per fortuna. Anche quello di Ceresole? Esiste il lago ancora quest'anno? Guardi, lambisce proprio il massimo livello che io abbia mai visto, perché da tempo l'avevamo visto molto più secco, per cui adesso è una gioia degli occhi. Ma anche i laghi alpini, quelli naturali e anche quelli artificiali, perché lei sa che soprattutto su Versante Piemontese abbiamo tante dighe, no? Da Ceresole in su per la cappazione dell'energia e quindi sono in base artificiale. Ma i laghi alpini, quelli tradizionali, che si sono formati naturalmente dal ritiro dei nevai e dei ghiacciai, sono uno spettacolo. Tra tutti gli appuntamenti che propone il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Cristina Del Cose, visto che lei è addetta alla comunicazione, se lei avesse un minuto e avesse a disposizione questo tempo per lanciare un appuntamento o una possibilità, un'escursione, quale sceglierebbe? Ce la racconti? Io sceglierei sabato sera a Ronco Canavese, Lucilla Giagnoni, che fa uno spettacolo di te, adesso ha il titolo preciso, non me lo ricordo, si intitola di acqua e di terra. Di acqua e di terra, sabato alle 21.30 a Ronco Canavese. E se dovessi consigliare un'escursione, mi faccio pensare perché... Beh, andiamo a Valsavarancia, alla casa di caccia di Orbiei. E quindi il ritorno al tempo in cui il re d'Italia andava a caccia e andava a riposarsi, e non solo a riposarsi, per l'appunto, in Valle d'Aosta. Cristina Del Corso, grazie davvero per averci fatto camminare all'interno del parco, averci fatto... assaporare le bellezze della natura, ed è sicuramente una cosa importante a questo punto. La nostra curiosità deve far sì che ci porti esattamente in cammino, dentro il parco. Grazie a lei e buon lavoro, Cristina Del Corso. Grazie, grazie dell'ascolto. Buongiorno. Grazie a tutti.